Con Mr. De Angelis, parlavo prima con il tuo collega Favarin, ho immaginato la rabbia, ti avevo visto molto arrabbiato al momento in cui hanno fischiato il calcio di rigore in favore del Follonica-Gavorrano, complessivamente però credo che il risultato sia giusto, episodi a parte. Ma assolutamente, venire qui comunque sia e dire la nostra contro una signora squadra, vista poi la gente che annoverava il Gavorrano in panchina, penso un ottimo risultato, però è normale che c'è la rabbia perché il pareggio del Gavorrano è avvenuto sul rigore che come avete ben visto dall'immagine è completamente inesistente, però ci sta come sbagliamo noi, sbagliano gli arbitri. Però ecco, ci teniamo bene il punto anche perché stiamo dando continuità, ultime cinque partite veniamo da tre vittorie e due pareggi compreso quello di oggi, quindi ci siamo ripesi abbastanza bene dopo la partenza abbastanza ad handicap che abbiamo avuto. Sì, ho visto il rendimento, fino a oggi avevi fatto sette punti in casa, sette punti in trasferta, però concentrato tutto quanto, soprattutto verso la fine. Dove può arrivare la tua squadra? Perché è una squadra di esperienza, giocatori importanti, anche giovani molto interessanti. Sì, assolutamente sì, oggi facciamo almeno anche di Nanni, che è il nostro gioco di maggior qualità, scontato dal giornale di squalifico, come faremo almeno domenica di Mastro Pietro, che è un altro gioco fondamentale per il nostro gioco offensivo. Questa squadra, io sono subentrato alla quinta di campionato, quindi da quel giorno a oggi penso che possiamo essere pienamente soddisfatti perché comunque abbiamo un ordino di marcia che è paragonabile alle prime della classe, quindi dobbiamo solamente continuare, non ci poniamo obiettivi, anche perché non ci scordiamo che solamente due mesi fa eravamo penultimi in classifica con un punto, con il mio avvento, quindi partita dopo partita, finale dopo finale, questa oggi è una finale importante da non perdere, ecco poi ripeto, c'è stato ammatico purtroppo del parigi ottenuto in modo un po' così dal Gavorrano, però non ci poniamo obiettivi. Come diceva poco fa il capitano del Gavorrano, è ancora presto per parlare di un campionato ancora chi vince, chi perde, chi lotta per i play off e play out, perché è un campionato con una classifica cortissima, penso che fra 4-5 partite comunque si comincerà a diregnare quello che sarà il vero andamento del campionato e le vere realtà, la vera forza delle squadre. Si può dire che comunque il girone tosco, umbro, laziale è particolarmente combattuto, insomma sono squadre spesso e volentieri molto attrezzate? Sicuramente sì, se andiamo a vedere i 9 gironi penso che il girone è equilibrato in assoluto, squadre ecco, vincendo noi oggi si mettiamo quinta in classifica dentro i play off, magari perdendo una partita ti ritrovi dentro i play out, quindi qui sta a testimoniare la compattezza di tutte le squadre, la forza di tutte le squadre, il girone è equilibrato, quindi sarà anche difficile, come ho detto poco fa, pronosticare un'eventuale griglia finale per quanto riguarda la prima e i play off, lo stesso vale per i play out. Io ti ringrazio e ti faccio complimenti e poi magari insomma vedremo a fine campionato come sarà la situazione. Assolutamente sì, grazie mille e buona serata a tutti.